Contro la discarica, messaggio, messaggi carini, vaffanculo, polverini! Contro la discarica, messaggio, 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 messaggio. Contro la discarica, messaggio, messaggio, messaggio. Contro la discarica, messaggio, 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 Ioniterme, Guidonia, Villanova sarà un consensio. Unitevi a questa grande manifestazione contro le discariche che ci vogliono mettere da Polterini il prefetto Becoraro e anche Alemano che a settembre aveva detto a Cassattente le discariche non si faranno. Questa è una vergogna, ha portato in giro i cittadini Alemano. Questa è una vergogna. Questa è una vergogna. Questa è una vergogna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.